Svolta storica per le spiagge di Biceglie. Nei giorni scorsi alcuni cittadini e movimenti politici avevano sollecitato un intervento economico con soldi dei contribuenti per eliminare il degrado di alcune spiagge della città di Biceglie rappresentato anche dalla presenza di relitti edilizi da decenni abbandonati. Una straordinaria opportunità della regione Puglia ha consentito che una grande intuizione dell'amministrazione spina diventasse una splendida realtà. Quattro spiagge libere e due strutture abbandonate sulla litorania infatti diventeranno oggetto di attività che produrranno nuovi servizi per i bagnanti e per tutti i cittadini. Custodia delle spiagge libere per prevenire atti di violenza e atti vandalici, sicurezza per la bagnazione e per la salvaguardia della vita dei bagnanti con presidi dotati di defibrillatori lungo la costa, accessi più comodi alle spiagge con nuovi servizi per i cittadini diversamente abili, nuovi servizi igienici lungo la costa, recupero e conservazione degli aspetti identitari geomorfologici delle spiagge e dei manufatti edilizi preesistenti, garanzia del 50% di spiagge libere e gratuite per i cittadini che riceveranno comunque dei servizi in termini di sicurezza e sorveglianza delle spiagge, razionalizzazione della gestione dei beni pubblici con il ricavato che verrà destinato per migliorare qualità e servizi turistici. Inoltre sono pronti i progetti per creare, grazie all'intervento dell'associazione Baywatch, ulteriori presidi di sicurezza per i bagnanti in sinergia con la Capitaneria di Porto su tutte le altre spiagge libere della città. Nei prossimi giorni infine verranno completati gli interventi per garantire mobilità sostenibile e conservazione dell'ambiente con ulteriori lavori sulle spiagge per il ripascimento con ciotoli di gran parte della litorania. Ringrazio la Regione Puglia, il comandante della Capitaneria di Porto di Barletta Pierpaolo Pallotti e il comandante dell'ufficio locale marittimo di Biceglie Francesco Dell'Orco, che stanno collaborando con professionalità sul piano istituzionale alla realizzazione di importanti progetti amministrativi che produrranno ricchezze e posti di lavoro nella nostra città, ha dichiarato il sindaco di Biceglie Francesco Spina.